ma fuori e che cosa pensi di pentoman ingon fatamon e penguimon strapp si vedeva penguimon e' avicca la voce bene però non so a quanto mi si alzano l'estate chi è? ebbene vedi altri due dati che altro per darti una certezza secondo me quanti hanno dovuto sono riusciti e diamo le statistiche giuste per far devolvere il cibo ebbene quello che c'è l'altro però l'ho fatta da un video ufficiale di sto giorno magari è uscita solo in giappone ebbene dai prendi per il culo a te la seconda volta che si trova ixmon ci danno le bucce no non provare ci danno le bucce a tre volte mi dici non provare ebbene direi che in questa casa era abbastanza spediziosa ci ha provato la volta e abbiamo trovato la pente perchè stavamo andare qua ebbene un po' mi rosa trovate però per combattere però quando l'ho già trovato due volte dai nooo è pixmon la raggiunga tropicale altre è pixmon ebbene ebbene per la registrazione ah 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 ma si è vuoto si è anche guardato se non c'erano i venditori la gente di voglio compare roba te la compa che prezzo voglio è desplorato e vai c'è ventimila io ho capito a te non ti voglio che non ci voglio andare a prenderlo da che parte era? sinistra siamo verdramon ehm si vai prendi la scensola a destra o per le in qua potrei portare il freezer provo un attimo non me lo legge vai dritto che scordi che sei che ti fai vai che cosa c'è con te ora è felice faccio ok e quindi zalo ma è chiusa lolo adesso cosa c'è l'altra parte scelte 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 con queste grande abilità ok adesso ma mi spedio che dovete passare in qualche prospettiva mi riuscire mi riuscire mi riuscire mi riuscire mi riuscire ma dato che ti ha già sbloccato l'ascensore ah ok ti ha già cascatto la volta magari non ricascarci ci si si ti spavano no ma 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 tu maledetto compratore di merda guarda che mi sa che le di no e quello del caso la scienza è di non precisi lo farò più belli di notizie e te mi dovrai accompagnare ma cazzo è vero